La comunità della parrocchia di Cupone di Cerro a Volturno ha festeggiato i 40 anni di sacerdozio al servizio della chiesa di Don Pietro Fuoco e i suoi 40 anni al servizio di tutta la comunità della parrocchia di Cupone. Una comunità abbastanza importante perché raccoglie 7 delle 13 frazioni di Cerro a Volturno, Foci, San Vittorino, Cupone, San Giovanni, Mancini, Piano Dischia e Case. In questi 40 anni di sacerdozio ci sono stati momenti difficili e momenti lieti, ma con l'aiuto della provvidenza, come è stato ricordato nell'omelia, il parroco Don Pietro Fuoco è riuscito sempre a superare gli ostacoli e dare fiducia e conforto ai suoi fedeli. Il rito religioso ha visto l'intervento del vescovo di Isernia Venafro Camillo Cibotti e anche quello del sindaco di Cerro a Volturno Remo di Anni. Alla fine festa generale taglio della torta con la partecipazione di tutta la comunità parrocchiale.